Alessandro Vicinanza e il viaggio d'amore con Roberta Di Padua. Che vuoi fare, Robby? Dormire. Perché vuoi dormire? To dream. Perché to dream? To dream? Because I... Because? I started. Ah, sei stanza? Sono di 5 e mezzo. I'm tired. Because I drink a lot of the... I want to go in swimming pool now. Of the flight. Non mi resta che augurarvi un viaggio meraviglioso nella stupenda Marrakesh che non potevate trovare stagione migliore per andare a visitare.